E' già tempo di calcio a mercato e non c'è dubbio che dopo i discorsi di rito in casa Rezzo si stia già pensando ad aggiustare la squadra in vista della seconda parte della stagione. Questa è una fase cruciale. L'Arezzo finora non ha del tutto convinto e necessitano dei correttivi per non lasciare troppo spazio alle concorrenti che sono agguerrite. Non c'è solo il Sandonato che può dare fastidio. L'Arezzo ha un buon telaio ma ancora tutto il meccanismo non viaggia con la stessa testa. Il nuovo allenatore Andrea Sussi è stato chiaro su quali intenzioni ha nell'impostare la sua idea di calcio. In ogni reparto dovranno essere fatti degli inserimenti. In attacco, tanto per fare un nome e cognome, delle ultime ore è tornato in voga il nome di Elio Calderini. L'attaccante della Tiferno Lerchi conosce bene la piazza per essere cresciuto nella primavera Maratto. A 32 anni ha dimostrato di essere ancora competitivo. A Città di Castello saldo bene che non potranno reggere la concorrenza dell'Arezzo e aspettano la mossa degli Amaranto. Da quello che trapela dei contatti ci sono stati e il giocatore ha dato la sua disponibilità a tornare a vestire la maglia dell'Arezzo.